Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale. Sono qua oggi con un ospite, con Andrea Filippazzi, con una P perché ci tienimo, due Z, che è un avvocato nell'ambito posso dirlo della musica, specializzato in tutto quello che è la parte musicale della giurisprudenza. Quindi chiederei a te intanto di dire con parole un po' più sensate delle mie, presentarti in modo un po' più tecnico e poi partirei con una conversazione. Sono un avvocato specializzato nel settore della discografia, del music business, che ormai faccio da, insomma sono pratico ormai da più di vent'anni, sono venticinque anni. Ho un'esperienza anche come musicista, perché io prima di diventare avvocato ho suonato a livello professionale in un gruppo con cui ancora oggi mi diverto a strimpellare nel tempo libero e quindi quando mi sono laureato un po' in ritardo in legge ho deciso di fare una laurea, di laurearmi con un'attesi sul contratto di edizione musicale e quindi poi di far la pratica. All'epoca non pensavo di far l'avvocato perché suonavo veramente a pieno regime, la mia attività. Poi però come tutte le cose, i gruppi si sciolgono, la passione per la musica rimane, continui a suonare, però ho fatto, diciamo, dell'avvocatura la mia professione. E qui ho pensato bene di, perché anche la materia mi interessava, di specializzarmi in diritto d'autore, in diritti connessi, insomma tutto il music business. Andrea, prima di entrare nel vivo, una piccola riflessione o comunque come secondo te è cambiato, visto che comunque tu hai vissuto il mondo discografico dall'interno e poi da l'avvocato, come secondo te è cambiato negli ultimi trent'anni? Allora, innanzitutto il primo cambiamento, il primo salto l'ho fatto passando da musicista a professionista, diciamo, a professionista della musica, insomma, l'avvocato, perché poi non è che c'è una specializzazione, io sono specializzato, ci sono gli avvocati specializzati in diritto di famiglia, a volte bisogna anche sapere indirizzarsi verso gli avvocati giusti, no? C'è chi fa diritto di famiglia, chi è specializzato nel diritto musicale, chi è in diritto commerciale, eccetera, eccetera. Ci ho posto alla prima cosa di cui mi sono reso conto e quando un po' ho saltato la barricata, no? Che quindi ho iniziato a vedere gli artisti dalla parte del professionista e quindi a capire anche molti degli errori che io con la mia band avevamo fatto, no? Proprio perché tu parti da una tua concezione di musica, la tua musica per un artista è ogni pezzo musicale come se fosse un proprio figlio, no? Quindi difficilmente vuoi che altri ci mettono le mani, solo tu sai come produrre la tua musica, quindi la prima cosa ho iniziato a rivedere un po' il rapporto, o meglio, quello che pensano e quello che dicono gli artisti, perché capisco bene perché essendo stato dall'altra parte, ma mi sono anche reso conto che spesso, insomma, ci sono degli artisti che non si rendono conto di quello che è la loro musica, cioè che può essere buona, può essere bella finché vuoi, prima volta hai bisogno di avere dei consigli. Detto questo, la musica è cambiata perché oggi, da un lato, è molto facile comporre musica, no? Quindi una volta quando facevamo noi la musica, andavamo in sala prove, si buttava giù un pezzo, arrivava magari uno con un giro di chitarra o un pezzo quasi fatto e si suonava e soprattutto si andava a registrare dopo che si faceva un periodo in sala prove di preproduzione, di scrittura, per suonare proprio, no? Per suonare bene i cerzi e realizzarli poi bene in sala di incisione. Oggi ormai quel metodo lì è rimasto per alcuni, ma oggi la musica, da un lato, è molto più facile crearla. Oggi i ragazzini di 10-11 anni iniziano subito col computer e magari a 15-16 anni arrivano a fare anche delle produzioni interessanti, nuove, no? E quindi da quel punto di vista è cambiato che è più facile arrivare a fare musica, ergo c'è più concorrenza. Certo. È più facile pubblicare la musica. Oggi non hai più bisogno di avere un contratto discografico per pubblicare la tua musica. Oggi puoi rivolgerti direttamente a un distributore. Chiaro. Addirittura ti puoi distribuire tramite un distributore senza un vero e proprio contratto. Ci sono DistroKid, ci sono TuneCore, bravo, dove tu paghi una fee, 10 dollari, 50 dollari e ti distribuiscono le tue registrazioni, le tue registrazioni in tutto il mondo, no? Certo. E quindi se tu sei bravo a, sui social soprattutto, a farti un po' di pubblicità e se i pezzi funzionano, non hai bisogno della casa discografica. Noi una volta gli artisti degli anni, fino agli anni 2000, insomma, avevamo bisogno di un'etichetta discografica perché andare in studio costava. Certo. In questo studio costavano tipo un milione di lire al giorno. Porca miseria. Cosa che... e dovevi andare lì a farlo perché non c'era modo. Oggi è più facile quindi non solo fare i master, creare musica, ma anche pubblicarla, distribuirla, no? Certo. E questo è sicuramente un vantaggio. Lo svantaggio è che c'è più concorrenza. Dal punto di vista discografico esistono tutta una serie di formule, di contratti. So che questa è una cosa che comunque interessa molto, proprio perché c'è questa predisposizione, questa possibilità dell'autodistribuirsi o del arrivare comunque a dei risultati senza un accompagnamento, una casa discografica. Anzi, ci sono parecchi esempi di gente che proprio esplosa, nel vero senso della parola. Quanto è importante tutelarsi e come bisogna fare? Cioè, qual è la prima cosa? Quando ti offrono un contratto, perché sinceramente una delle cose che sto notando ultimamente è che c'è proprio, correggimi se sbaglio, però lo vedo un po' da Instagram, una sorta di diffusione, di ricerca di artisti in modo veramente un po' massivo, anche un po' esagerato secondo me, offrendo contratti dove ti danno alla fine poi due noccioline, parliamoci chiaro, e ti restituiscono poco o niente. Ti restituiscono la distribuzione. Allora, quanto è importante tutelarsi e quali sono le due armi migliori che puoi avere? Cioè, quando leggi due cose, sai proprio... Certo. Allora, la prima cosa da fare, e non lo dico perché sono, come dire, coinvolto direttamente, quello che consiglio è quello chiaramente di affidarsi a un professionista, un professionista del settore che può consigliare la cosa migliore. Questo non significa che se vai da un professionista, se sei un artista all'inizio, ti trasforma una 500 o una Ferrari, no? Certo. Nel senso che anche il miglior avvocato di questo mondo, se dipende un po' tutto dal valore economico dell'artista, perché non confondiamo il valore economico da quello poi artistico, cose diverse. Sono artisti bravissimi, fortissimi, fighissimi, che purtroppo magari non vendono tantissimo come altri. Però è chiaro che se uno rappresenta un artista grosso, hai magari più responsabilità nel contrattualizzare. Quello che appunto, stavo dicendo, vale un po' da sempre, da quando sono entrato in questo settore ho iniziato a capirne qualcosa, perché anch'io da artista ho firmato le mie minchiate. Normalmente una multinazionale, adesso in Italia ne abbiamo tre, Warner, Sony e Universal, hanno sempre dei contratti standard, di un certo minimo livello, quindi magari non ti possono dare il massimo, però non sono mai dei contratti capestro, perché giustamente loro devono avere un certo tipo di tutela. Sì, sono multinazionali, non ti porteranno mai via, cioè le royalties te le riconoscono, quando ti comprano i diritti di utilizzazione economica dell'opera, nei contratti editoriali ti danno comunque dei compensi. Diciamo che sono contratti sempre da fare vedere, da farsi consigliare, chiedere consulenze. Dicevo, la prima cosa da fare per un ragazzo giovane che si affaccia a pubblicare musica e che ha una certa intenzione di entrare nel music business, è quello di cercare di farsi tutelare da qualcuno che conosce, qualcuno del settore, qualcun esperto e soprattutto cercare anche lui personalmente di capire come funziona. Invece gli artisti si preoccupano spesso di chiaramente dei cachet, dei concerti, che è giusto e sacrosanto per carità di Dio, però una volta non si rendono conto di qual è poi il vero income, quali sono i veri guadagni che ha un autore barra un artista o un artista interprete esecutore, perché sono cose diverse, no? Questa cosa è un po' un limite che abbiamo noi italiani. Oggi vedo che qualcuno si sta un pochino muovendo, altri poi sentono le cose che circolano, no? Ma se non cedi le edizioni non guadagni niente, se non è vero, perché, facendo una rapida parentesi, cosiddette edizioni musicali non sono altro che, per un autore barra compositore, la cessione della parte patrimoniale del proprio diritto d'autore. Quindi se non la cedi, con i soldi li incassi il te. Quindi la prima cosa da sapere, fondamentale, nel contratto editoriale, che tecnicamente si chiama contratto di cessione dei diritti di utilizzazione di un'opera musicale o di opere musicali, che quando si cede a fronte di un pagamento, chiaramente, a fronte di un corrispettivo o anche a zero, come fanno alcuni che fanno magari poi furbetti, si sta cedendo una parte dei propri diritti patrimoniali d'autore. Quindi se tu hai ceduto la metà del che è quello che si può cedere al massimo, i cosiddetti 12, 24esimi, il 50% dei diritti di utilizzazione delle tue opere musicali, e tu incassi da CIAE o dalla società di collecting dove tu sei iscritto 100 euro, l'editore ne ha incassati 100. Se tu non avessi ceduto l'edizione ne incassavi 200. Quindi questa è la prima cosa da sapere. Al di là di quanto ti possano dare, al di là di quanto devi sapere che quando cedi, stai cedendo all'editore, quote, perché poi può essere fino alla metà, non oltre, perché la legge in Italia per fortuna è una legge sul diritto d'autore e tutela gli autori, come non succede in altri paesi, in Stati Uniti e Inghilterra in particolare, tutela gli autori, quindi tu puoi cedere fino alla metà dei tuoi diritti patrimoniali d'autore. Il diritto morale d'autore è invece incedibile. Ecco, appunto, infatti, quindi il concetto è quando tu cedi delle tue edizioni devi avere qualcosa in cambio. Cioè, se qualcuno te le chiede… Fondamentalmente sì, che può essere una somma economica, cioè ha un importo… O promozione, può essere… oppure la pubblicazione delle registrazioni, oppure un corrispettivo ti deve essere dato. Certo. L'importante è dare un corrispettivo, che quindi l'artista che spesso è anche autore, spesso, che può essere anche autore, abbia un corrispettivo per l'accessione delle proprie edizioni musicali. Sì, d'altronde, se tu avessi una società e vuoi cedere delle quote, perché qualcuno vuole acquistare quelle quote di una società, quelle quote vanno pagate, quindi… e vanno pagate in proporzione a quanto la tua società vale o quanto potenzialmente può valere secondo… Poi il discorso è che molti… perché dicevo, poi bisogna spiegare che c'è una differenza fra artista e autore, autore o compositore. Adesso con l'autore intendiamo sia l'autore del testo che il composito della musica, perché l'autore è titolare di un diritto d'autore, l'artista è titolare di un diritto connesso, che sono due cose diverse. Sono due diritti diversi, entrambi disciplinati dalla legge sul diritto dell'autore, anche con durate diverse tra l'altro. Oggi hanno allungato la durata del diritto connesso con il produttore fonografico perché stavano per andare in pubblico dominio tante opere musicali. Pensiamo al rock and roll degli anni cinquanta. Dopo settant'anni, vero? Adesso l'hanno portato a settant'anni dalla prima pubblicazione, il diritto connesso del produttore fonografico. Prima era addirittura di venti, poi l'hanno portato a cinquanta e prima che scadessero tutti i dischi di rock and roll l'hanno portato a settanta anni. Quindi, scusa Andrea, non è dalla morte di... Quello è il diritto d'autore. Ah ok, perfetto. Il diritto d'autore che spetta l'autore inteso come autore e compositore e la durata è settant'anni dalla morte dell'autore o dalla morte dell'ultimo coautore se il pezzo è stato composto da più autori. Da più autori, certo. Ok, coautori e compositori. Invece il proprietario del fonogramma... Il proprietario del fonogramma che è colui che paga, mette lo studio e deve ottenere le liberatorie dagli artisti interpreti e esecutori, cioè dai cantanti, dai chi ha suonato, dai musicisti, gli strumentisti, eccetera, eccetera, e il diritto del produttore fonografico, diritto connesso, dura cinquanta anni dalla pubblicazione del fonogramma. Anche l'artista interpreta e esecutore ha un suo diritto connesso che in Italia viene, per esempio, collettato da nuovi maie. Infatti consiglio a tutti gli artisti di scriversi, oltre che a una società di collecting, se sono chiaramente anche autori o compositori, a una di queste società che collettano il diritto connesso. Ed è una percentuale, se ho capito bene, è la stessa percentuale di te che l'hai registrato, in pratica. Allora, è un compenso che spetta a chi ha suonato, cantato, su delle registrazioni che sono state pubblicate. Chiarissimo. Bisogna specificare e dire una cosa che la legge sul diritto d'autore tutela l'opera nel momento in cui l'opera viene creata dal suo. Quindi, se io adesso, io e te, componiamo una canzone, non abbiamo bisogno di scriversi da nessuna parte. Certo. È già tutelata nel momento in cui nasce. Certo. Ok. Ripeto, non c'è obbligo di scriversi a nessuna società di collecting, ma come dice la parola stessa, la società di collecting è quella società, in Italia ne abbiamo due, si ha e sound, ma uno è libero di scriversi a BMI, che è in America, piuttosto che PRS, che è quella inglese, o Sassam, che è quella francese. Poi, chiaro che se la tua musica specificatamente in Italia, è meglio scriversi a un'italiana perché i proventi ti arrivano prima. Certo. Però, dico, non c'è obbligo, ma nel momento in cui la tua musica la diffondi, la pubblichi e vuoi, come dire, ricavare dei soldi dall'utilizzazione delle tue opere musicali, allora è bene dare mandato a Sauri, piuttosto che alla Siae, ognuno poi sceglie quale è quella che preferisce per far sì che ti collettino appunto il diritto d'autore. C'è da dire una cosa importante che so che molti ragazzi ignorano ed è che la Siae riconosce anche una percentuale sui digital, quindi non è… ascolti vengono fatti e pagati tramite quello che sono gli accordi con i digital store, hanno una percentuale che altrimenti non arriva, in realtà viene cristallizzata nell'etere, diciamo. Allora, quando la musica viene utilizzata c'è sempre il pagamento del diritto d'autore e del diritto connesso. Il diritto d'autore lo incassa la società di collecting che poi lo ripartisce fra gli aventi diritto. Il diritto connesso lo incassa il produttore fonografico che poi paga la royalties agli artisti. Il diritto connesso degli artisti, interpreti e esecutori lo incassano le specifiche società che poi collettano il diritto connesso. Quindi in pratica se fai centinaia di migliaia di ascolti e comunque ce n'è ormai tantissime di persone che riescono ad ottenere degli ottimi risultati, se non siete iscritti a una di queste società quei proventi in realtà non vi vengono ridistribuiti. Esatto, rischi di perderli. Andrea, una domanda un po' scomoda. Se tu avessi la tua band adesso, avessi vent'anni, ma con l'esperienza accumulata negli anni e con la consapevolezza del mercato che stiamo vivendo oggi, a quali figure preferiresti rivolgerti? Cioè continueresti a fidarti di una major, di un'etichetta discografica? Lo faresti più da… Allora dipende, ripeto, la major ha grosse potenzialità economiche. I contratti di base che sia un contratto di casting, che sia una licenza o una distribuzione hanno degli standard, non possono essere mai nei contratti capestro. Certo. Io nella mia esperienza siamo partiti indipendenti, siamo passati poi in un'etichetta che era la metastrada per arrivare poi alla multinazionale. Mentre una volta la major era il modo per uscire con una certa spinta, con una certa promozione, con una certa operazione di marketing, perché ti facevano il video, perché il video una volta costava milioni di lire. Certo. Oggi tu mi insegni, sono dei ragazzini svegli, smart, che con un cellulare, una bella idea, ti fanno un video della madonna, capito? Guarda, ti dico questa curiosità già soltanto nella mia piccola esperienza. Io quando avevo 18 anni, 19, mi ricordo che la nostra etichetta del tempo, che era una super indipendente, avevamo fatto il nostro primo video e ci aveva detto è difficile che nella vita avrete altre possibilità di fare un videoclip. Penso che forse facciamo 200 video al mese. Cioè credo che è cambiato qualcosa. Chiaramente anche quello è diventato anche più facile oggi. Certo, certo. Quindi dicevo, se uno riesce, anche perché il discorso del marketing, oggi è cambiato completamente. Certo. Cioè, una volta non c'erano i social, una volta c'era la radio e tutto, oggi anche la promozione in radio, certo per la maggior parte della musica non ha più senso. Assolutamente. Ok, tanto le radio passano quelle cose lì e va. Certo. Una volta se non passavi in radio, rimanevi veramente underground. Certo. Oggi c'è gente che fa numeri, grossi numeri, perché? Perché sono bravi a postare dei propri video, delle proprie cose interessanti. E quindi lì dipende, io per esempio molto spesso quando mi si presenta magari un artista, no? Che mi fa vedere che è molto attivo sui social e tutto. A volte dico, ma forse non ti conviene. Cioè, la cosa da non fare, da evitare, è cercare di, appunto, di evitare di firmare dei contratti capestro. Sì. E questa cosa lo fai affidandoti a un professionista. L'avvocato, che ce ne sono eh, sono magari meno rispetto al numero di avvocati che ci sono, però che è pratico di queste cose. Certo, certo. C'è anche da dire che comunque quando un artista, questa è una cosa che noi, tra di noi, insomma, gli artisti che lavorano con noi qua dentro, lo diciamo spesso, quando tu hai una già una buona credibilità e soprattutto hai la possibilità di replicare, reiterare, no? Il tuo prodotto, cercando di crescere, no? Con le competenze, forse barattare per poco con anche delle realtà molto grosse è un po' un peccato, perché il punto è che tu hai già un pubblico. Esatto. E quindi perché dividerlo e continuare a dividerlo? Sai, dipende un po' da quello che ti danno. Quello che ti offro. Bravissimo. C'è l'artista che dice, caspita, mi hai fatto un'offerta economicamente talmente allettante… Che perché no. Che perché no. Certo. Ok. A volte però i soldi non sono tutto. Certo. Certo. Questa è la mia esperienza. Molte volte è meglio fare una carriera crescendo, farsi la cosiddetta gavetta, arrivare… che magari boom, fare il bot e poi dopo rischiare di… perché poi rimane… c'è anche psicologicamente… Bravissimo. L'artista, insomma… Ne risentirne. Ne risentirne, no? Assolutamente. Ma a livello mondiale ci sono… Quegli artisti che sono usciti magari con il primo album e hanno venduto 20 milioni di copie… Quando il secondo ne fa 10 o 8… È un fallimento. Perché è un fallimento. Certo. Poi non lo è. Ma uno che ha fatto 20 milioni e poi ne vende 5 milioni è un fallimento. Certo. Entrano poi anche altre situazioni psicologiche, no? Comunque c'è un organico secondo me… da quello che ho visto andando in varie measure, per vari motivi… negli anni ho visto che l'organico si è decisamente abbassato. Ma perché prendono sempre… chiaramente c'è l'INR che ha la mia età… Esatto. C'è quello che ha 40 anni e c'è quello giovane… C'è quello giovane. Perché soprattutto sai oggi la chiamano urban per esempio, no? Quello del genere un po' rap, trap, così… Che è più… È più a contatto con gli artisti urban. Anche perché facilmente… Mentre sai l'avvocato… E comunque l'avvocato loro poco interessa che abbia 30 o 40 o 50 anni. Però il discografico che è quello… E lo so perché all'epoca era così per noi… Ma cazzo questo qui ha 40 anni cosa vuoi che ne sappia? Cioè non capisce un cacchio… È normale, no? Chiarissimo. Quindi per noi all'epoca erano dei rocchettari e per noi discografici italiani non ne capivano un cazzo di rock. Per cui tutte le cose che ci dicevano per noi erano delle minchiate. Certo. Non era sempre così chiaramente. Ma noi le vedevamo in questa maniera. Certo. Uguale anche per i giovani oggi. Se si interfacciano con soggetti, persone coetanee o poco più grandi, parlano la stessa lingua. Chiarissimo. E quindi diventa più facile. Volevo ancora parlare con te un po' di tutto il discorso sample. L'abbiamo un po' introdotto prima. Se le camere spente. La cosa che so che molte persone vorrebbero chiarire e comprendere quanto è rischioso prima di tutto campionare. Cosa bisogna fare per evitare rischi. Cioè per evitare insomma anzi ripercussioni più che rischi. E quando è lecito. Perché da poco è successo che volevo utilizzare un sample. Però veramente massivo. Cioè volevo proprio che l'artista in questione scrivesse su quel sample lì. Ed era un sample di Universal Giappone. Allora ho chiesto a Giuliano Saglia che saluto. Mi ha detto Giuliano guarda fammi la sincronizzazione. O meglio chiedi quanto dobbiamo pagare per avere. E lui ha fatto delle ricerche. Ci ha detto che questo sample in Italia era libero da ogni. Cioè potevamo utilizzarlo come volevamo. È un sample di un brano di una colonna sonora di Lady Oscar. Ecco giapponese ovviamente. Perché questo? Una situazione specifica non la conosco. Normalmente un sample non è altro che un estratto di una registrazione. Ok. Normalmente quando tu depositi le opere. Quando l'autore deposita un'opera in CIA. La tutela per tutto il mondo. Certo. Potrebbe essere che quest'opera non sia stata tutela. Mi sembra difficile però probabilmente il buon Giuliano che conosco e saluto anch'io. avrà fatto questo controllo. Spero. Probabilmente è venuto fuori che in Italia. Si in Italia. In Europa non lo so. Comunque non era tutelata in tutto il mondo. Certo. Questo significa che. In realtà non significa che è proprio libera. Certo. Perché ripeto è una questione di collecting. Certo. Il fonogramma comunque. Perché tu nel momento in cui hai fatto. Hai creato un'opera questa è tutelata. Certo. Quindi tu puoi sempre rivendicarla. Quello che voglio ricordare a tutti gli artisti, produttori, compositori e via dicendo è che quando si prende un sample, sia esso un secondo, dieci secondi, un minuto o una base intera, bisogna chiedere la liberatoria, il clearance o comunque l'autorizzazione sia al produttore fonografico, cioè il titolare dei diritti connessi sul determinato master, su quel master, nonché all'editore. Certo. Ok. Poi se io non prendo quella traccia di master ma la risuono e diventa una sorta di cover, allora quel punto è un po' diverso. Però comunque tu devi avere la liberatoria dal produttore fonografico, titolare dei diritti connessi sul master, proprio l'ero del master, dei diritti di utilizzazione della registrazione, e al autore o editore, se questo ha un editore, perché se l'autore non ha un editore è lui che ci si gestisce i propri diritti. Come si fa a non farsi beccare? Vabbè è molto semplice, basta che non si riconosca. Certo. Chiaramente. Voglio dire, quando utilizzi qualcosa di qualcun altro o parte di qualcosa di qualcun altro, devi avere l'autorizzazione. Certo. Questa è la regola principale. Poi, se la utilizzi e sei bravo a camuffarla, non se ne accorge nessuno, oppure se la utilizzi e nessuno ti fa un reclamo o un claim o qualcosa del genere, quello va da sé. Però normalmente bisogna stare un po' cauti. Poi le conseguenze. Le conseguenze dipende da chi vai in qualche modo a… A plagiare. Non è proprio un plasso, ma chi vai a utilizzare diciamo il sempre senza l'autorizzazione. Io ti dico, spesso e volentieri si mettono a posto queste cose. Anche perché… Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però bisogna ricordarsi sempre che in un mondo interconnesso come il nostro è un attimo che l'artista americana che non scoprirà mai l'artista italiano gli mandano in duecento… perché poi Spotify è anche un meccanismo, tutta la musica quella un po' più indipendente, magari un po' più profilata, viene poi degli algoritmi fatta ascoltare proprio a chi magari è del settore. A me capita di beccare plagi in concomitanza con i miei colleghi nella stessa settimana, perché la Discovery Weekly ci dà gli stessi brani… Poi attenzione, cerchiamo anche di distinguere il sampler… Dal plagio, certo. Dal tra virgolette plagio… Io parlavo di plagio… Se non scrivi una canzone che poi risulta simile a quella di qualcun altro… A volte… O perché hai un certo tipo di bagaglio culturale… O perché sia tu che quell'altro avete attinto… Dal medesimo bagaglio culturale… Musicale intendo dire… Quindi… Voglio dire… Ci possono essere dei cosiddetti… Plagi involontari… Certo… Hanno detto che il plagio sia per forza volontario… Quindi, chiaro… Esistono… Ci sono queste… Anche diatribe cause… Anche famose… Ci sono state… Certo… Però ci sono anche casi di gente che è stata brava a rubacchiare qua e là… Creando poi delle opere… Assolutamente validissime… Certo… Certo… Nulla del… Il sampling invece… Insomma è facile… Un tecnico te lo riconosce subito… Certo… Se tu prendi anche tre secondi di una registrazione… Certo… Sei meglio di me… Non ci sono gli strumenti per capirlo… Quindi quello è un'altra cosa… Certo… Perché insomma… Sei anche ben consapevole di quello che stai facendo… Anche… Comunque la musica è costellata di questi episodi… Ci sono… Come dicevamo prima… Nella musica classica… Magari… Mozart… Si… Qualche… Regnante d'Europa… Si imbatteva in degli spartiti… Di… Bach… Piuttosto che… Va a sapere chi… E… Prendeva intere frasi… Che è un po' un sample… Prendo la frase dello spartito… E me la metto in un mio spartito… È un sample di fatto… Quindi ha super senso… Mentre… Andrea… Intanto ti ringrazio… Però… La riflessione che… Quello… Insomma… Che ti ho detto prima… È questa… Che vorrei fare con te… Secondo te… Così… Facendo un po' un fanta musica… Qual è il futuro del mercato discografico… Mi spiego meglio… L'altro giorno… Guarda molto astratto quello che sto per dirti… Però l'altro giorno… Io sono molto appassionato di musica classica… Mi piace moltissimo… E… Ascoltavo… Mart Argerich… Che… Suonava Schumann… E in un'intervista diceva… Che lei ha un legame molto importante con Schumann… E questo mi ha fatto partire una riflessione… Un po' così… A ruota libera… E la riflessione è questa… Oggi… I musicisti… Sono gli unici… Che hanno… Danno valore… Anche quando reinterpretano le opere… Nel senso… Se tu… Ridipingi la Gioconda… Non c'è niente… Niente di che… È un capolavoro… È unico… È un pezzo unico… Esatto… Bravissimo… Mentre invece… Reinterpretare Schumann… Ti dà un valore artistico di un certo peso… Assolutamente… Ecco… Detto questo… Reinterpretare Drake… Tra 200 anni… 350 anni… Probabilmente molto meno… Forse è più l'originale… Che aveva un peso… Perché è stata scritta in quel modo… Perché non era così… Difficile forse… Non lo so… Non lo so… Ecco… In questa prospettiva… Come si evolverà secondo te… Il mercato musicale… In che direzione… Se fossimo… Non so… Degli scrittori di fantascienza… Di fantamusica… Ma guarda… La musica ci sarà sempre… Questo è indubbiamente… Finché c'è la musica… Finché la musica è utilizzata… Nelle feste… Nelle… Nelle stazioni della metropolitana… Negli stadi… Perché la musica crea aggregazione… Nei party… La musica renderà… Dei soldi… Ai titolari… Dei diritti dell'autore… Diritti connessi… Magari diventa più difficile… Andare a… Renderli… Quei soldi… Andare a percepirli… Finché la musica va… Finché la musica gira… Finché si utilizzeranno… La musica si utilizzerà… Autori… Discografici… E… Artisti… Editori… Avranno i loro proveni… E quindi… Insomma… Questo è… Diciamo… Grazie di cuore… Ma figurati… È stata una bella chiacchierata… Molto bella… Ti ringrazio per tutto il tempo che ci hai dedicato… E… Niente… Se voi avete domande… Scrivete qua sotto… Io… Insomma… In un modo o nell'altro… Provo a rispondere… O a ricontattare Andrea… Se riesco… A… Riattirarlo qua… Sai… Dare dei consigli su queste cose… Eh… Adesso… Oggi abbiamo toccato tanti temi… Certo… Però insomma… Credo che il… Il… Si sia capito… Quale sia stato… Assolutamente… Il focus… Il focus… Di questo incontro… Assolutamente… Quindi… Chiaramente… Buona musica a tutti… Bocca al lupo… E… E niente… Insomma… Fate la musica… Dovete farla sempre… Suonare… E però… Stare attenti anche agli aspetti… Poi… Prettamente economici… Perché ci sono anche quelli… Soprattutto… Per gente… Per persone… Che vogliono fare… Della musica… Della creatività… Del creare musica… La propria professione… Assolutamente… Quindi… Mi raccomando… Grazie mille… Figurati… Grazie a te… Ciao a tutti…